Il Perugia ultima la preparazione in vista della gara di domani a Pescara. Gubbio, ipotesi gambino per l'attacco, Gualdo Casacassalda preso sgambato in difesa questa sera presentazione nella squadra e test contro lo C9 di Materazzi. Motori, ribalta nazionale nel settimanale motorsprint per l'Eugovino Lucio Lisarelli dopo l'impresa con la sua lambretta per il trofeo Fagioli. Palla canestro femminile Umbertile, buona la prima nel test amichevole con Ceprini e Orvieto. Buonasera, bentornati con l'informazione sportiva, apertura con il calcio, con il Perugia che domani sera all'Adriatico affronta il Pescara di Oddo. La truppa bianco-rossa è partita nel pomeriggio dopo aver svolto questa mattina la seduta di rifinitura in sede. Allora, prima della partenza, conferenza stampa del tecnico Bisoli che ha spiegato l'importanza della gara e le soluzioni tattiche possibili da adottare nel match di domani sera. Ascoltiamolo. Tutti ci aspettiamo un passo in avanti, ma già ripetere la prestazione non sarebbe da buttare via, perché secondo me è stata una buona prestazione, condita poi dalla vittoria, da miglioramenti durante l'arco dei 90 minuti, degli errori che ci sono stati, ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di migliorarli in questi pochi giorni. Però troviamo di fronte una squadra che ha uno spessore diverso, il Como sicuramente, perché è una candidata a lottare per le prime posizioni del campionato, ma troverà un Perugia che ha voglia di fare risultato, che ha voglia di imporre le proprie idee, di cercare di vincere e se dovessimo perdere, perché loro sono stati bravi non per nostra deficienza mentale, oppure deficienza di tattica, oppure perché siamo stati appagati da una vittoria, perché loro sono stati bravi, nello sport certe volte può succedere questo, ma siamo pronti per dare battaglia. Ho sentito parlare di rivincite, io l'anno scorso non c'era, quindi per me è una partita come un'altra, e quindi l'ho preparata, come ho sempre preparato tutte le partite, come fosse stata la prima a San Anno oppure la prima col Como. Ho provato diverse soluzioni, qualcosa di più rispetto a un'altra, mi riservo domattina per cercare di tirare le somme e cercare di sbagliare il meno possibile, andiamo via in 20, quindi in questi 20 cercherò sicuramente quelli che mi daranno maggiore garanzia dal primo minuto. Le soluzioni sono due, le sapete, quindi vedrò di cercare di sbagliare il meno possibile. Abbiamo provato il 4-2-3-1 come abbiamo provato con il Como e abbiamo provato il 3-5-2 perché può essere una soluzione importante anche contro una squadra come giocano loro. Seruta pomeridiana per il Gubbio con Mr. Maggi che ha utilizzato la partitella in famiglia per sperimentare l'undici che con ogni probabilità andrà ad affrontare il Jolly Montemurlo. La novità principale dell'allenamento riguarda il modulo provato dal tecnico che non ha iniziato con il 4-3-3 visto invece domenica scorsa ma ha preferito opzionare il 4-3-1-2. Con le pettorine gialli in porte è andato Volpe. In difesa accanto a Marini ha giostrato l'ex Foligno Petti prendendo quindi virtualmente il posto di Schiaroli. A destra a Bowali, a sinistra invece spazio al rientrante Conti. A centro campo da interno sinistro Maggi ha dato fiducia alla scuola Chievo-Tibolla con Romano come playmaker e croce mezza la destra avanzando al ruolo di trequartista Marianeschi dietro alle due punte Ferri Marini e Ferretti. A tenere banco resta sempre sullo sfondo il mercato detto che per i fuori quota si pescherà solo nelle battute finali. Si stringono dunque i tempi per il difensore e l'attaccante di esperienza. Burzigotti resta in ghiaccio per l'attaccante invece pronta alla stretta finale con Gambino divenuto l'obiettivo principale. L'attaccante però sta rescindendo con l'alto Vicentino ma non è da escludere che già domani possa arrivare in Umbria. Attenzione ad altre squadre però che potrebbero interessarsi al giocatore tra queste la Juve-Stabia, il Piacenza e lo stesso Giolli-Montemurlo. Scendiamo in serie D. Il Guado-Casacastalda ha puntellato il pacchetto arretrato con l'innesto dell'ex vibonese Foggia-Gavorrano-Melfi-De Ruta-Vincenzo-Sgambato classe 88 svincolato pochi giorni fa dal Torrecuso. Trattativa Lampo, quella portata avanti dal DS Gagliardini che ha subito trovato l'accordo con il giocatore che questa sera dunque debutterà probabilmente nel test fissato al Carlo Angelo Luzzi alle 20.45 contro gli indiani dello Schnein allenati dall'ex campione del mondo e dell'Inter Marco Materazzi con l'ex giocatore che sarà anche premiato dall'Inter Club Gualdese per i suoi gloriosi trascorsi con la maglia nera-azzurra. Sempre restando in serie D, il Città di Castello si prepara al derby di sabato contro il Città di Foligno con tante iniziative per la prima giornata tra le mura amiche del nuovo campionato. La prima riguarda una targa che sarà consegnata al tecnico bianco-azzurro Giunti come omaggio da parte della sua città. Il secondo è l'ingresso gratuito a coloro che sono attualmente disoccupati con biglietto a metà prezzo invece per i pensionati in possesso della carta argento. Anche il Foligno poi si prepara al primo derby della sua stagione in attesa del pronunciamento del giudice sportivo dopo il ricorso presentato in seguita ad una sospetta squalifica non scontata da un giocatore del Jolly Montemurlo domenica scorsa. Giunti dovrà rinunciare a Gennari. Pensa ad inserire fa per due al fianco di Fogacci con il giovane Arboleda sulla sinistra. Attenzione anche ad alcuni movimenti a centrocampo con Giambi provato tra i titolari al posto di Del Colle, possibile anche un ballottaggio tra Ubaldi e Fiordiani in mediana. Sul mercato da segnalare invece l'interessamento della Ponte Vecchio per l'attaccante Gabriele Fondi con il giocatore che riflette sulla proposta presentata dai rossoverdi di Balducci. Passiamo ora al basket. Primo test amichevole contro un avversario competitivo e di rango per la palla canestro femminile Umbertire che ieri nel ritiro di Pian Castagnaio ha affrontato la Ceprini Orvieto a Badia San Salvatore. Contro le Rupestri si è trattato del primo test precampionato dopo due settimane di duro lavoro in palestra, tutti a disposizione per coach Serventi e censo fatta per Wumi con la canadese tenuta precauzionalmente a riposo. Assente giustificato ovviamente anche Simmons che non ha ancora raggiunto le compagnie ma lo farà soltanto la prossima 15 di settembre. La palla canestro femminile Umbertire si è ben disimpegnata conducendo una gara a forte intensità chiudendo la gara sull'80-65 nel quintetto di Serventi. Indicazioni positive per Milazzo, Tikvic, Sarne, Dell'Olio e Moroni. Tutte infatti hanno raggiunto la doppia cifra. Sabato ancora un test e ancora con Orvieto. Questa volta il tutto nel palazzetto di Bagno Reggio. Parliamo di motori ora perché non si è spenta l'eco dell'impresa del Lio Gubbino Lucio Lisarelli in occasione del cinquantesimo trofeo Luigi Fagioli. Lisarelli ha infatti fatto da pripista la manifestazione coprendo senza mani e a tutto gas l'intero percorso Gubbio Madonna della Cima abbassando il record personale siglato nel 2011. Impresa che dunque gli è valza anche una vetrina sul settimanale Motor Sprint. Guardate. Non si smette perché si ha paura di invecchiare ma si ha paura di invecchiare perché si smette. La citazione non appartiene a letterati o poeti di prima fascia e nemmeno sportivamente parlando a grandi costruttori o piloti del mondo dei motori. La frase in questione ha un'origine molto più casareccia ed è stata coniata da un Gubbino d'occhi appassionato di motori come Lucio Lisarelli. Lisarelli anche per l'edizione numero 50 del trofeo Luigi Fagioli, la stessa manifestazione a cui partecipò nella seconda edizione come pilota, è stato autore dell'ennesima impresa a bordo della sua lambretta percorrendo i 4.150 metri del tracciato Gubbio Madonna della Cima senza mani con un elastico che teneva bloccato il gas in aperta, lasciando a Lisarelli il solo ausilio dei movimenti delle braccia e del bacino per impostare le curve fino alla linea del traguardo. L'edizione 2015 della sua impresa ha permesso a Lisarelli di scendere sotto al suo personalissimo record di 4 minuti e 55 secondi, fissando il cronometro a 4 minuti e 37 secondi con una media di 53,94 km orari. Un'impresa che, oltre a sensibilizzare la bontà del trapianto di fegato, gli ha valso pure un riconoscimento sul quotidiano sportivo principe dei centauri italiani, come il settimanale motorsprint del direttore Stefano Saragoni. Il settimanale motorsprint mi ha dedicato una bella fotografia, parla di me, delle cose che ho fatto e del discorso che porta avanti sulla donazione degli organi, perché faccio queste cose, a parte che servono per me stesso e per sentirmi vivo, ma per dare anche una speranza a persone che sono trapiantate, oppure sono in attesa di un trapianto, che facendo un trapianto uno riesce a fare una vita più che normale, anzi, sopra le righe direi. Ecco, innanzitutto è curiosa anche la maglietta con cui tu compi queste imprese, perché ogni impresa che fai cambi una maglietta, con delle scritte, appunto, con dei messaggi molto particolari. La prima maglietta che ho fatto c'era scritto che fegato, perché una persona, diciamo così, che fa, dice, c'hai un fegato, che fegato. Questa qui invece era una maglia un pochino particolare, perché riportava la mia prima, la seconda edizione del correre, perché ci ho scritto in solo la maglia, risalire, cioè risalire perché ho corso io la prima, la seconda edizione della Mengara, e una botta di vita perché uno che risale in motocicletta, come sono risalito io, e adesso risalire anche dalla malattia dà un senso, come ripeto, per far vedere che tutto quanto continua abbastanza bene. Un'ultima domanda, è un po' una curiosità che ne parlavamo prima, microfoni spenti, che ora un po' vogliamo anche rivelare ai nostri telespettatori. Tutte queste imprese meriterebbero un record, e invece questo riconoscimento, questo Guinness non arriva mai. Il Guinness che ho fatto io ne ho fatti due, uno giù la pista, diciamo, di automodellismo e uno nella pista ciclabile. Ho mandato tutta quanta la documentazione, però alla fine non mi hanno mai, diciamo, dato l'omologazione, perché se paghi ti danno il Guinness World Record, e non paghi no Guinness. In chiusura vi ricordo che anche quest'anno riparte il salotto sportivo fuori gioco, giunto ormai alla ventesima edizione. Ospiti studio e collegamenti telefonici, servizi delle partite delle Umbre di serie D, direttamente di domenica sera, attenzione, cambio di calendario, non più di lunedì. Il tutto a partire dalle 20 e 30 con la conduzione affidata a Carlo Angeletti con Luca Tosti. Nel fine settimana non perdetevi l'appuntamento doppio poi con Diretta Sport. Allora sabato dalle 14.45 con Angelica Menghini per commentare in diretta il risultato del Perugia nel campionato di serie B, con collegamenti per gli anticipi dei campionati dilettanti. Domenica poi a partire dalle 14.50 il studio con Giacomo Branco per seguire il Gubbio e tutte le altre compagini del Girone di serie D. Allora è tutto per questo appuntamento informativo. Vi ricordo che la replica di questo TG Sport potrete seguirla dalle 20 alle 21 su TRG1. Domani lo troverete caricato sul nostro sito trgmediaco.it, un po' come tutta l'informazione targata TRG. Allora domani mattina se vorrete invece io vi aspetto a partire dalle 7.30 in diretta per leggere insieme i quotidiani regionali. Grazie per averci scelto, buona serata.